Ha rischiato di fare la fine del topo in gabbia salvata in estremis dagli agenti della volante del commissariato di Faneo assieme ai vigili del fuoco a corso sul luogo dell'incendio. Alla base di tutto una vendetta sentimentale per la quale ha dato fuoco all'appartamento del suo ex fidanzato. Gli agenti del commissariato e gli vigili del fuoco sono dovuti intervenire la scorsa notte a Torrette via Carlo Levi chiamati dai residenti che avevano visto uscire del fumo da un appartamento. Anche il proprietario, un trentenne di Pian di Meleto che in quel momento non era in casa, aveva allertato i carabinieri perché avvertito via Whatsapp dalla stessa ex che mentre appiccava il fuoco all'appartamento mandava messaggi minacciosi e le foto del robo. Quest'ultima, una fanese di trent'anni, non ha accettato la fine della relazione sentimentale e si è introdotta nell'appartamento passando per un lucernaio comunicante con la mansarda dell'appartamento e dopo aver appiccato in più punti il fuoco si è barricata nel bagno, prigioniera anch'essa del fumo e delle fiamme. Gli agenti della volante con sangue freddo e determinazione onde evitare peggiori conseguenze assieme ai vigili del fuoco hanno fatto evacuare a scopo precauzionale anche le cinque famiglie residenti nella palazzina e dopo aver sfondato la porta blindata d'ingresso sono riusciti a domare le fiamme e a recuperare la ragazza che dopo le cure per i postumi del fumo è stata ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Fano. Ma la giornata della trentenne è stata una giornata di ordinaria follia perché prima di decidere verso la mezzanotte di incendiare l'appartamento dell'ex nella mattinata aveva tentato di dare alle fiamme anche il veicolo dell'uomo e prima ancora si era resa protagonista di un disastroso incidente lungo la nazionale proprio a Torrette verso le 16.30 dove ha investito per ragioni ancora in fase di accertamento un ciclista Probabilmente in preda allo stato confusionale che poi l'ha portata fino all'appartamento del suo ex L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al Torrette di Ancona in eliambulanza Il trentenne invece riceveva i messaggi della ex sull'incendio al suo appartamento proprio mentre si trovava nella stazione dei carabinieri di Pian di Meleto per denunciare la precedente aggressione violenta della donna L'appartamento andato a fuoco è stato dichiarato inagibile dai vigi del fuoco mentre le altre famiglie hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni e la donna denunciata a piede libero per danneggiamento dagli agenti del commissariato di Fano diretto dal dirigente Stefano Seretti